Siamo pronti! Siamo pronti! Siamo in piazza perché faccio il mercato, io capito? Giro col mercato perché è altro successo di piazza e noi abbiamo... Eh stai zitto dai, hai tre album all'attivo se non erro, giusto? Sbagliato! Quattro album! Quattro! E il quarto qual è? Uno gli manca, dipende da quello che ti manca! Allora, c'ho quello del perizoma, no? Se mi siedo poi si vede, esce dal mio pantalone, mi fissano il mio fondo a schiena, arrapate le persone, attirate! Ma questo è un mio momento che io porto per renderti contento, ma che pena sto per il giovanero che si sposta e mi tira al pezzo! Mi scorreggio in un secondo, me spacca il tot e il dos, ma per il mio culo tondo, è la migliore culo, questa linea sottiva! Al maschio piace e si sa, divide tutto il suo mondo, proprio nella metà! Quanto mi autorizzo, giusto? Com'è andata? Me lo dovresti dire tu che hai detto al pubblico, io... No, non è andata molto bene, soprattutto la parte con i bambini è piaciuta al pubblico, eh! Sì, è piaciuto anche a me, anche perché avete bambini molto particolari, molto simpatici! Anche i nomi molto belli, eh! Nomi molto belli e divertenti! Vieni, Fasco Rossi, vieni! Ciao! Come ti chiami? Vittorio! Vittorio, come lino? Di cognome? Marica! Vittorio non c'è, quindi? Vittorio non c'è, è andato via! E di dove sei Vittorio? Di... Ma non me lo ricordo! Sì, ne hai fatto un applauso che è di casa! Anche se non sa dove! Vittorio, tu cosa fai nella vita? Zocco! Zocco! E a cosa giù? Qual è il tuo gioco preferito? Nascondino! Dai, nasconditi 20 minuti, poi andiamo a cercarti tutti! No, vieni qui, Vittorio! Vittorio, è un ragazzo un po' deciso! Vittorio, e chi te ha fatto i capelli così? Mia zia! Denunciala da parte mia! Ma trattamento a minori? Cerchi i carabinieri dopo, assinagli lo dici! Va bene? La zia è avvisata! Pettinata col Viagra, che tu non ti toccai! Va bene, Vittorio! Torna, adesso ti spiego com'è! Sono gentile! Anna ti chiami! Alessandro, quelli che sono andato vicino! Alessandra, e di cognome? Meloni! Meloni! Di questo periodo stai attento a me che ti ritagliano subito! Non è questo! Ma lei lì lì lì, te scarpirei! Che bellino! Perché c'è, qua c'è proprio il Dio davanti che ti toccano così! E poi tranquillo! Per ogni ritorno inzio, quando oggi speciale, due fitti, ricchiti e mille altre più bontà! E poi per carne vale parafritti e bignè, e il zempole lunghissime di venti, mitri e tre! Ma c'è un dolce pasquale che ritengo il più speciale, e ne mangio sempre a go-go! Se me lo chiedete per favore, questo dolce io vi svelerò! Ma sì! Ma dai! E di cielo tra noi! Sono le formaggelle, tizia peppina, che ne dico il corino, mi piacciono un casino! Mangiate calde nel caffè! Nel caffè! Ti fa venire le borroglie le sedere! Va bene, ti faccio una domanda seria! Come hai iniziato a produrre canzoni demenziali? Me la domanda che è! L'ho iniziato quando avevo dieci anni per imitazione di Benito Urgo e Giuseppe Masia, che sono i miei idoli da bambino, ma... Gli altri avevano i cantanti Queen e ne avevo venito Urgo, capisci la differenza? Un po' come noi che abbiamo a te come idolo! Siete messi molto male, peggio di me! C'è gente che sta peggio, c'è mamma, guarda questo film, c'è gente che sta peggio, film! Come potrebbe diventare questa canzone con una passata di 15 anni di matrimonio? Senz'altro cambierebbe in maniera tragica in questa maniera che ora mi spiego. A te che sei la mia compagna ed io sfortunato, male dico il giorno in cui ti ho incontrato, quando ti guardo ogni sera mentre andiamo a letto, vista di profilo, sembri un cassonetto. A te che ti ho incontrato, scendo via dallo sferale, ero a bombardare un calcolo renale, a fare un giro in pineta dopo che ho vinta, e tu ti ho sposata e sei rimasta incinta. È una rottura, rottura di palle, a te che prendi i miei stipendi e non lo rivedo mai più, a te che passi ore d'ore a misurare scarpe, a te che sei una rottura, rottura di palle, ti peghi lungo il corpo in modo disumano, se ti accarezzo le sceglie, sembri un mare in mano. No, no, dai, a parte gli scherzi, le tue canzoni sono tra le più richieste nella nostra emittente. Il che mi preoccupa, però io volevo ringraziare pubblicamente, ora che ho le opportunità, Radio Fusion per la... io nell'Interland Cagliaritano e Cagliari sono conosciuto grazie a voi, questo devo ammettere, quindi... E anche grazie a Radio Sintoni. Anche grazie a Radio Sintoni che... grazie a questo ragazzo che... è la telecamera che lo ingrassa come a me, sono i... è la telecamera che difesa... Vabbè, io sono il triplo. Sì, però è la telecamera che difesa, sembriamo Mingo e Fabio di Striscia la Notizia. Oh, no! Ma è colpa del disco La Panza che ogni tanto mi ascolta. Eh, infatti, infatti, anche a me... infatti non chiude bene il cd perché il resto anche la mia è un po'... Sono i nomi dell'amore, un'emozione forte e antica, si lavora e si fatica, si fa tutto per l'amore. Sono i nomi dell'amore, si fa piangere e sognare, che se ti lascia una ragazza... è colpa sua perché la mia... È uscito anche il nuovo cd, Mi rifiuto, che tratta anche un tema un po' serio, come quello dei rifiuti che... Il problema è che il titolo Mi rifiuto e molti sono rifiutati di comprarlo, e quindi è stato un problema per questo. Però molti, molti l'hanno comprato. Facciamo un appello, andate sul sito zentenoa.com a acquistare il cd. Facciamo questo appello perché tutto il devoluto ricavato, tutto questo, andrà per un bambino bisognoso, dalla maglietta gialla, che ne ha veramente bisogno, grazie. E non scaricatelo dai mule. Se lo scaricate, però, metteteci il mio nome, perché è capitato che qualcuno scaricasse con nomi differenti. Come faccio io, eh? Andiamo benissimo, mi sta più simpatica la rifiuta, non tanto come prima. Mi piace bella gu, mi piace bella gu, mi piace bella pulsella del cuor. Mi piaccia l'effett'è, mi piaccia l'effett'è, mi piaccia l'effett'è nell'espression. Mi piace che il tuo seno, mi piace che il tuo seno, mi piace che il tuo segreto del cuor. Nascosto tra le cose, nascosto tra le cose, nascosto tra le cose dell'amore. Quante ragazze in franga, meglio è l'ammirare. Io con la mutanda bianca, lo faccio innamorare Meglio la mutanda bianca, il boxer da mare e il tetro Macchia gialla davanti e macchia marrone di dietro Uno dei brani più conosciuti e più richiesti è il manovale Sapevo Tu hai mai fatto il manovale? No, della verità no, sì ho fatto qualche cementino Ma no, manovale e manovalanza no Ed era il primo sbocco per un ragazzo che resta vita ai paesi Se non trovi niente è il manovale Quindi c'è questa qua, ti sogni alla fine, ti fermi È una canzone seria poi alla fine Che ha avuto questo successo, grazie, possiamo dirlo Sardegna 1? Sì L'abbiamo detto Sardegna 1 che passa tuttora questo video che sembra divertente perché A proposito di Sardegna 1, tu hai condotto anche un noto programma televisivo Pensi di tornare in televisione? Non so se mi lasciano passare, comunque spero di sì Con nuovi personaggi, ti stupirò questa volta Una nuova maga? Buona, c'è la magallona che ti voleva fare i tanucchi anche a te E dice che troverai tanta amore e tanta fortuna Ti sposerai con una, con un macchinone, vestita bene Non è una miliardaria questa smerano, è un becchino, eh figlio mio Anda bene in mara, va bene Nicola Io ti ringrazio, ringraziamo anche gli amici di Radio Fusion Di Youtube perché questo video va anche su Youtube Tanta carne al fuoco e grazie mille a voi Grazie ancora della pubblicità e di tutte le possibilità che mi date Spero di meritarle